Bene amici, bentornati su questo nuovo video sul mio canale. Oggi vi porto, dopo un bel po' di utilizzo, le mie impressioni, recensione, sul Garmin Instinct 2 Solar. Lo sto usando l'apparecchio ormai e quindi penso di poter dire la mia. Tutto questo dopo la sigla. Instinct 2 Solar di Garmin. Sigla andata e ora questa recensione è più che altro una chiacchierata su cosa ne penso e come mi sono trovato in queste settimane di utilizzo. Prima di tutto vi chiedo di supportarmi mettendo un like qui sotto al video e iscrivendovi al canale se non lo siete già iscritti. Questo è completamente gratuito, lo so che io non ho tutti, però mi aiutate a crescere. Ora sto provando l'epix, ho trovato un'azienda che crede in me, può prestarmi dei dispositivi per portare sempre nuove recensioni, i miei punti di vista sul canale e farvi vedere qualche prodottino. Quindi per favore supportatemi, iscrivetevi completamente gratis. Chiuso un pippone iscrizione, passiamo a lui. Per chi non ha voglia di vedersi tutto il video fino alla fine, per me è il miglior Garmin che ci sia stato fino ad oggi, tra virgolette. Migliore e peggiore. Luci e ombre. Perché? Perché io lo sto usando da tanto. Mi piace, mi piace la batteria che dura una vita. Ora vi lascio uno screenshot, se state più di tre ore al sole, i consecutive, lui se la batteria lo consente, insomma non è completamente a zero, lui qua al posto del giorno, della durata della batteria, appare il simbolo dell'infinito, perché è una batteria che può essere addirittura infinita con le giuste caratteristiche di luce solare. Quindi d'estate, in questo periodo, quindi nella bella stagione, con tre ore di luce solare diretta al giorno, lui può durare per tutta l'estate. Questo io non ci credevo, ma in realtà a me il simbolo dell'infinito è passato, l'ho visto, è apparso, e mi è durato veramente tanto. Appunto, sensore. L'ho già detto più di una volta, l'ho detto anche nel video dove faccio vedere il Garmin Epix 2, l'ho detto anche in altri. Sensore di ultima generazione, ma che non ha nessuna protezione qua, quindi la luce può filtrare di lato, e l'ho trovato leggermente meno, ma non una roba così grave, preciso rispetto al Fenis con lo stesso sensore, o al Venu 2 rispetto a quello stesso sensore. Ma parliamo sempre di un sensore da polso. Chi cerca la precisione correndo, facendo sport, usa fascia cardio, o le fasce, quelle nuove, che si mettono al braccio, ma non al polso, perché al polso comunque la precisione ne risente sempre un po'. Andiamo a vederlo un po' più da vicino. Perché ho detto luce ed ombre? Allora, per l'uso quotidiano, quindi senza averlanza della batteria e tutto quanto, questo è il migliore, perché come durata di batteria, come dicevo, paradossalmente può essere addirittura infinito, quindi meglio di lui è difficile. Visibilità sotto ogni condizione di luce è perfetta con questo schermo. Personalizzazioni altissime. Mi piace tantissimo il tondino qua, dove possiamo mettere qualcosa di diverso, ma è utile e comodo anche nelle attività, ad esempio abbiamo un'attività, qua ci ho messo, questi sono tutti i campi che ho messo io, e qui dentro ho messo la frequenza cardiaca, che mi piaceva averla bella in vista. Mi piace il fatto che questo è il massimo di campi che si possono mettere per attività singola, ma parliamo di uno, due, tre, quattro e cinque col tondino, tutti personalizzabili, che è una cosa che dal mio punto di vista è veramente comoda. A me piace avere tante informazioni quando pratico un'attività, per quanto non sia uno sportivo incredibile, però anche io le mie attività me le pratico e mi piace un sacco poter mettere tante informazioni. Mi piace com'è integrato, vedete qua ad esempio, mi fa vedere che posso schiacciare qua per confermare l'eliminazione dell'attività. È veramente integrato proprio bene, è eliminata, guardate anche come gira gli effetti, è bello, è bello, ci sta proprio bene. Poi ovviamente anche scorrendo su e giù, andando nei widget, troviamo sempre qua la personalizzazione del tondino, qua andiamo sotto la questione della luce solare, vedete? Fa vedere esattamente quanta intensità di solare ha captato il pannello e ha ricaricato l'orologio. I widget sono ovviamente personalizzabili, qua siamo al 73% di batteria, mi dice ancora 24 giorni, è veramente, praticamente infinito, veramente ottimo. Passi le misura bene come i Fenix 7, come il Venue 2, Plus o il Venue 2, non ho trovato grossa differenza. I widget tutti personalizzabili, ovvio, meno bello di un Fenix perché non ci sono i colori, meno bello di un Epix perché ha un display AMOLED. Tra parentesi, rivalisco, iscrivetevi al canale perché questo sarà il prossimo che recensirò. Andiamo avanti, anzi ve lo lascio qui dietro giusto come ricordo. Qua troviamo le impostazioni inerenti al sonno, la body battery, training status, e istantanea salute, che l'istantanea salute non è altro che una misurazione completa che fa vedere questi parametri nel giro di due minuti che lui calcola di registrazione e fa vedere la saturazione, il battito, la frequenza respiratoria. E che è una cosa in più carina, non so se è utile realmente, però sicuramente è molto molto bella vedersi. Calendario, e poi troviamo tutte le notifiche. La temperatura, mi dimenticavo, ha anche lui, misurazione stress come tutti, temperatura ovviamente tenendola al polso, capite bene che può misurare la temperatura del polso. Qua, vabbè, mi dà un brutto ricordo il calendario, bisogna pagare il bordo della macchina, ahimè, comunque anche questa è una cosa in più. Notifiche, lui è un notificatore, essenzialmente, non può interagire con iPhone, non si possono fare neanche risposte rapide, con Android invece sì. Tenendo schiacciato il pulsante sotto, possiamo impostare delle scorciatoie rapide, a seconda di quello che noi vogliamo. Io in questo caso ho settato la sveglia. Tenendo schiacciato il pulsante down, idem, possiamo impostare un'altra scorciatoia rapida. Io ho messo, in questo caso, l'altimetro. Se scegliendo, tenendo schiacciato app, entra nel menu, e tenendo schiacciato light, entriamo nel menu rapido. Anche questo, tutto completamente personalizzabile. Dimenticavo, cosa importante, non da poco, anche questo wallet per poter pagare con Garmin Pay. Quadranti orologi, orologio, anche questi, sono assolutamente personalizzabili. Quindi, oltre a quello che ho scelto io, possiamo personalizzarle e ognuno al suo interno può essere ulteriormente personalizzato, come vedete. Molto bello, ho fatto anche questo veramente bene, perché ha sfruttato proprio bene il tondino, si integra alla grande. E non dà fastidio il pannello solare, anche se vedete ora, magari controllo, cioè si vede meglio. È grosso, lo schermo non è enorme, però ci sta. È tutto, diciamo, equilibrato. cronologia, poi entriamo dentro il menu, menu attività, menu notifiche, menu aspetto, sensori e accessori, mappa, orientamento traccia in alto, posizione attuale, zoom automatico, tutte le cose inerente alla mappa e quando si fanno le attività, telefono per sincronizzarlo e connetterlo, profili utente, sicurezza, c'è anche la parte inerente a caso di incidente, di caduta, che può avvisare dei contanti di sicurezza, navigazione, power manager, sistema, dentro il sistema troviamo, vabbè, le impostazioni classiche, lingua, ora, retroilluminazione, molto importanti, io metto sempre come con tutti i Garmin, dall'alba al tramonto, ora vabbè, con l'epix e all'amoled, non so, bisognerà un po' che lo studio e vedo, però anche lì ci sarà sicuramente qualche impostazione utile, come di solito Gambier fa. L'unica cosa sono difficili da trovare, perché il menu Garmin è sempre molto complicato. Non disturbare, anche questo si può impostare in fase a fascia oraria, e i tasti di scelta rapida sono quelli che dicevo, blocco automatico, formato, data USB, ripristino, aggiornamento software, e info, che ti dà informazioni sulla versione sul software e sull'orologio. Direi che con questo è tutto, è un ottimo dispositivo, mi piace molto, critica, appunto, che dicevo, ve lo faccio vedere anche qua adesso, il sensore, vedete, su serie Fenix, tra i seri Epis, non è sempre serie Fenix, ma anche sul Venue, è coperto, quindi se lo si attacca poi al polso, la luce di lato non può passare, qua invece, un pochino, la luce passa, perché non ha nessuna copertura. Quindi l'ho trovato un po' meno preciso, ma per il resto, secondo me, è il miglior Garmin da tutti i giorni, da poter tenere sempre, per chi non ha pretese estreme di chissà che cosa, che attività, ma in realtà anche questo, con la durata della batteria che ha, possiamo farci attività infinite, senza problemi, perché se di giorno, con luce del sole, si diminuisce la scarica della batteria durante l'attività, non è che si ricarica, la diminuisce durante l'attività, ma si ricarica, invece, e si ricarica realmente, perché vedete aumentare la durata dei giorni e la percentuale, mentre avete il polso al sole, vedete che la percentuale aumenta, che è impressionante, si ricarica in stand-by, quindi al sole, normalmente si ricarica, molto comodo, leggero, cinturino fantastico, mi è piaciuto molto, niente, per questa recensione è tutto, ci vediamo al prossimo video.